Ciao ragazzi, stiamo crescendo, sono contento del supporto a video anche se il gioco è uscito da parecchio, per cui rieccoci su Odessi con una build da cacciatore per i livelli bassi. Questa build è stata fatta di fretta e con gli equipaggiamenti che già avevo trovato raccogliendo a caso in un salvataggio della rampa cefista che ho fatto e che potete recuperare perché sono stati 7 episodi di 6-7 minuti quando ero a livello 15-16, quindi sicuramente se cercate l'equipaggiamento specifico farete anche meglio di così. Prima di tutto però devo fare una serie di premesse che riguardano il modo in cui il gioco gestisce la parametria di questo playstyle, per cui se volete passare direttamente a vedere il gameplay spiegato senza sentire dati sul gioco, sull'equipaggiamento e sulle abilità, saltate direttamente a questo punto nel video. Cominciamo. Attenzione perché il discorso è importante. A monte di tutta la faccenda c'è il fatto che questo gioco vi indirizzerà sempre o quasi sempre verso un playstyle da assassino e da guerriero in meno larga misura. Prendendo degli normali build completamente da cacciatore, molto poco valide e al massimo di supporto per gli altri due playstyle. Le immagini a schermo parlano chiaro. È vero che sono in modalità incubo, ma una freccia scagliata con la corda e l'arco tesa al massimo in testa a un nemico già di per sé molto debole, gli provoca comunque un danno troppo basso e questo credo sia il punto peggiore per uno stile di gioco che mira, in tutti i sensi, a kill pulite. Ciò che provoca questa disparità è il danno cacciatore di base che è troppo troppo basso per come lo regalo il gioco, al punto che come vedete posso comunque eliminare in un colpo solo un sofficino con il mio danno assassino, danno che non ho potenzialo neanche granché con gli attributi dell'equipaggiamento. L'equipaggiamento appunto gioca un ruolo fondamentale in tutte le build, ma con quella del cacciatore lo gioca un po' di meno diciamo. L'incisione più valida che vi consiglio di impostare dappertutto è quella che aumenta il danno da colpo alla testa, e laddove non potete inciderla selezionate l'aumento del danno assassino. Se avete visto il video della build assassino low level sappiate che stiamo facendo la stessa identica cosa, però al contrario. Quanto all'abilità, onestamente vi consiglio di aspettare il livello 16 e di aver potenziato la lancia di Leonida almeno una o due volte. A livello 10 sbloccherete l'abilità che aumenta il danno delle frecce, e dal livello 16 potrete ottenere il suo terzo grado. Non so perché l'abbiano messa così tardi, ma vabbè. Come supporto, anche se non sono per nulla obbligatorie, potete prendere maestro delle frecce, per poter utilizzare le frecce infuocate e avvelenate, questo al secondo grado, perché fanno più danno e applicano un malus ai nemici. Dopodiché, due gradi dell'abilità sesto senso, che sono importantissimi perché non solo aumentano il tempo prima di venire scoperti, ma aumentano al 175% il danno cacciatore, in quell'asso di tempo. E poi, ovviamente, due gradi di colpo del predatore, che di base fa il 500% del danno cacciatore. A livello 16, inoltre, si sblocca maestro della fortività nel ramo assassino. Il suo terzo grado aumenta il danno assassino e quello al di fuori del combattimento solo di notte, e questo per uno stealth è importante. Visto che stiamo usando il danno assassino come accessorio, bisogna potenziarlo per stare più sicuri quando si vanno ad assassare nemici per ottenere l'adrenalina. Anche questo, come il danno delle frecce, si potenzia la terza volta a livello 16. Ho scelto poi di prendere tempo rallentato per poter scoccare più colpi del predatore possibile in testa nemici più duri, senza triggerare lo scontro. Oppure quando lo scontro è già triggerato, per eliminare singolarmente più avversari con un minimo di calma dalla nostra. Dato importante. Si ottengono punti abilità gratuiti anche completando le tombe degli eroi. Per questo io non ho un po' di più del mio livello attuale. Se avete la possibilità o vi sentite casinisti, prendete l'abilità delle frecce ultra per eliminare gruppetti di nemici. visto che fa il 1000% del danno cacciatore. Altrimenti l'assassinio critico andrà molto bene lo stesso. Cominciamo con il gameplay serio. Questo è il forte di Desfina in focide. È probabilmente il secondo o il terzo forte che si incontra nella storia, ma è pienissimo di nemici. Le build cacciatore usano tanta, ma tanta, adrenalina. Quindi devo accumularne il più possibile per evitare di trovarmi senza in situazioni di estrema necessità. Reclutare o eliminare i soffricini e nascondere i loro corpi è un ottimo punto di partenza. È importante perché benché i forti siano grandi, i nemici girano. E se un cadavere è abbastanza vicino al tribunacere, chiameranno a rinforzi. Prendete sempre delle frecce dalle faretre ogni volta che ne trovate, perché potreste trovare anche delle frecce speciali. Altrimenti potete comunque crearle ogni volta, ma per farlo servono risorse utili a potenziare l'equipaggiamento della nave, e specialmente ai livelli bassi è traumatico restare senza. Vi ricordo inoltre che completando una delle quest di Daphne sbloccherete le frecce letali, che sono come quelle normali ma fanno più danno. In particolare quella dove dovrete uccidere la cerva di Cirinea. Consiglio spassionato, leggete i dintorni. Il level design dei forti militari è sempre fatto molto bene, i vari punti di appoggio e di scalata stanno lì per permettervi di attraversare una zona, elevandovi rispetto ai nemici. Le frecce del colpo del predatore possono anche essere scagliate senza guidarle, e contro un sofficino arciere sono un overkill, perché loro rappresentano i mob umani con meno vita in assoluto. Questo sofficino è capitano, il che significa che ha più salute, ma per questa build non è un problema, e anche lui si ritrova con il terzo occhio dietro la testa. Fortunatamente questo forte pullula di sofficini, quindi recuperare l'adrenalina non rappresenta il minimo problema. È arrivato il momento di mostrare il reale scopo della build al sesto senso. Come vedete, un colpo caricato alla testa rimuoverebbe metà vita a questa guardia, ma nei secondi in cui mi sta per sgamare, il danno cacciatore aumenta del 75%, e così scoccare un'altra freccia rapidamente lo elimina. Al terzo grado, questa build farà il doppio del danno, quindi quei nemici andranno giù in un colpo solo e senza consumare l'adrenalina, ma bisogna sottolineare che anche le altre abilità vengono influenzate dall'incremento di questa percentuale. Matematica, vieni a me. Il colpo del predatore fa fare le frecce il 500% del danno al secondo grado, quindi se il mio danno cacciatore fosse 1000, il 500% sarebbe 1000 per 5 volte, cioè 5000. E se lo uso mentre ho il terzo grado di sesto senso attivo, nel frangente in cui stanno per scoprirmi, il mio danno raddoppia, e quindi da 2000 punti di danno cacciatore base, se uso il colpo del predatore ne faccio 5 volte tanto, cioè 10.000. Questo brutto capitano si sta per beccare un colpo del predatore alla testa, che sfrutterà il mio danno cacciatore moltiplicato per 1,75, perché al momento ho solo il secondo grado di sesto senso, e poi il totale moltiplicato per 5. Per di più alla testa, che aggiunge un altro po' di danno, aumentato ancora di più dalle incisioni che ho messo nell'equipaggiamento. Avrei potuto usare una freccia normale e un assassino critico, se solo l'avessi, ma sono full cacciatore qui. Anche un colpo del predatore alla testa e un abbattimento o un assassino normale portano a casa il risultato, con il valore aggiunto che si consuma un seguente di adrenalina che viene subito recuperato grazie all'assassinio. Ottimizzare questa build adesso mi permette di one-shotare anche quella tipologia di soldati più resistente dei sufficini, per il colpo del predatore, per il fatto che è notte, e per gli incrementi di danno del colpo alla testa. Il polemarco si è fatto un giro per tutto il forte e ora vedrà dei cadaveri. È abbastanza vicino al bracere per chiamare i rinforzi, sapendo che qualunque cosa abbia ammazzato più della metà dei soldati nel forte, può benissimo mandare nell'ade pure lui. Così mi sbrigo a sabotare il bracere e avrò eliminato in un colpo solo anche la tipologia di nemico umano più forte e resistente del gioco. Nel frattempo ho terminato di ripulire il forte e visto che mi ci trovavo ho fatto uso della build a ultra solo per fare un po' di casino. Il forte è stato liberato, ogni soldato è stato eliminato e adesso voi sapete come essere un cacciatore stealth low level in Assassin's Creed Odyssey. Naturalmente con il set di Artemidi o quello dell'ora di guerra etanese la build diventa tremendamente più valida ma per ottenere quei pezzi dovete salire di troppi livelli e non sarebbe una build low level. Detto ciò, ricordate che ottenere certi armi con incisioni uniche come aumento del danno di questa o quella abilità sono comunque importanti perché sbloccate l'incisione anche se non potete ancora equipaggiare quell'arma. Esempio lampante, l'arco di Eros che si trova in fondo a una miniera in Messenia è un livello molto alto ma la sua incisione unica può essere infilata in ogni arco che trovate quindi potrete comodamente andare lì e inguattarvi l'arco senza utilizzarlo solo per la sua incisione. Detto questo, vi saluto. Vi rammento che siete ragazzozzi solo se siete iscritti altrimenti siete sozzi e basta lasciate un like se il video vi è piaciuto e se avete imparato qualcosa commentate se vi è stato d'aiuto condividetelo per diffondere il verbo e delle nozioni del gioco molto utili vi linkerò ogni altro contenuto tra guide e gameplay che ho fatto su Odisse e in descrizione e buono stealth!